salve a tutte amiche che seguite il mio blog coccinelecreative.blogspot.it e che mi seguite anche in tantissimi nel mio canale youtube e vi ringrazio per questo oggi vi mostro un ciondolino a forma di cuoricino come potete vedere realizzato interamente a uncinetto con filati in lana come potete vedere ho realizzato una tasca perché può essere utilizzato anche come profuma biancheria, profuma armadio o confettata in molti modi può essere oppure semplicemente appeso così guardate è fantastico per realizzarlo ho utilizzato il bianco, il pesco e il color cipolla questo è per i bordi il cipolla ovviamente il tutto l'ho realizzato con l'uncinetto numero 3 da per la lana inoltre ho utilizzato il classico ago a cruna larga e le classiche forbicine per la realizzazione ecco cosa ne pensate? non è fantastico? per vederlo da vicino visitate il mio blog www.cocinelecreative.blogspot.it e nel menu laterale troverete questo cuoricino ciondolino nella voce san valentino cuori e uncinetto confettata perché ha la tasca al lato visitate il mio blog e scopri tante informazioni tante altre creazioni solamente realizzate con ottime materiali e ovviamente tutto a mano al prossimo video ciao 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 ciao